L'ex geffino Daniele Dal Moro ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove questa volta se la prende con Shaila Gatta. Il post di Daniele fa vedere un'ape che vola da fiore in fiore, cioè fa pensare al comportamento della ragazza che è ancora indecisa tra Javier e Lorenzo. Infatti proprio nella puntata di ieri sera un colpo di scena è finito con Javier. Inoltre Daniele ha scritto alla geffina Shaila sciacquati la bocca quando parli di me, che Milano è piccola e le voci gigano. Insomma anche Daniele Dal Moro se l'ha presa con Shaila e con il suo comportamento. Infatti sembra che la ragazza ha parlato della sua squalifica al grande fratello. Ma sarà stato veramente così o c'è dell'altro? Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie per la visione!